Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video in cui andremo a giocare qualche partita in assedio, in football in quelle modalità lì magari dopo alla fine anche sopravvivenza però adesso andremo a giocare in assedio io andrò a utilizzare Bo mentre lui andrà a utilizzare Penny ovviamente avremo un compagno che noi non sappiamo speriamo che sia uno buono è rosa, una rosa il bullone è qua a sinistra direi di andarla a prendere subito ho sbagliato perché sono andata a morire però brava Rosa che è andata a prendere il bullone brava mi vedo a destra per aiutare Rosa che però è morta faccio un po' di danni da lì faccio un po' di danni pareggio nessun robot zero c'è una rosa che mi fa malissimo raga allora stiamo vincendo di bullone benissimo benissimo io faccio danni pesanti a Rosa benissimo grande grande rosa voglio ammazzare il Carl no raga no il Carl occhio non vuol rosa non perdere la fight voglio ammazzare Penny morta due bulloni presi prendo anche il terzo c'è la rosa c'è la rosa lì che livello 11 buonissimo ragazzi livello 11 se ce la giochiamo bene potremmo farlo alla prima io metto le bombette lì poi sparo e raga facciamo un botto di danni sì e raga concluse in un modo così devastante raga più 8 veramente gettone stella usciamo raga cosa è successo si è allargato tantissimo io che andrei a rigiocare in assedio forse dovevamo rigiocare con quella cosa perché veramente aveva fatto delle kill sull'altro nita 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 sinceramente l'ho vista poche volte in assedio qui c'è il bullone che verranno a prendere sicuramente dai che nita grande nita che ha ucciso il bull prendo questo bullone e siamo a meno che il nita non muore siamo a 2 quest'altro lo prendo io e scappo e scappo ok benissimo raga benissimo un robot di livello 3 per fare qualche danno ci sta dai Ale grande Ale raga piazzo come sempre le bombe poi dopo Itto raga guardate le bombe quanto male fanno guardate quanto danno raga il 1918 18 di vita veramente si sperava un altro colpo avevano vinto raga io mi prendo questo bullone qua a meno che il grande bull che ti sei fatto uccidere però il bombardino mi ha rubato il bullone uccidendomi raga ma sai che abbiamo abbiamo vinto raga a meno che non failiamo con le bombe io dovrei andargli a fare il danno e infatti altro più 8 ragazzi in assedio stiamo facendo il devasto ma sai Ale che io andrei anche a rigiocare quasi quasi no andiamo a decine perché la nita è uscita quindi non avrebbe avuto senso io mi devo fare l'oggettone di football raffagemme così dopo mi apro una bella casse enorme magari anche durante il video mentre registro ovviamente non andrò mai a trovare un brawler perché appena trovato pam è difficile andandoci mio fratello che sta stare notando in un modo pauroso occhio raga chillozze bellissime raga eh raga questa già si vede che stiamo facendo il devasto abbiamo fatto due kill sulla danni eugenio no sono morto sono morto non ci voleva però livello 4 buono buono prima raga con livello 3 l'abbiamo quasi devastati adesso livello 4 però non ho le bombe forse ho sbagliato me le dovevo caricare invece ammazzo piper ok basta che morto 45% non è assolutamente cioè raga se io piazzavo le bombe frank bloccava la torretta veramente le devastavamo prendo questo bullone qua poi vado a pushare loro due vado a pushare ok siamo un po' sotto di bullone però almeno mi sono caricato la ulti buono grande frank si frank adesso mi sa raga abbiamo tre bulloni da mettere raga vavano scosiva vavano sommazzo al colto ci prova almeno no raga come ho fatto a lasciarlo no raga 250 attività si raga morto raga aia potrebbero recuperarci quelli bulloni potrebbero recuperarci di bulloni aia e ci hanno recuperato non è vero un bullone tattico preso lì provo ad ammazzare il genio morto non è vero raga non è vero mi ha spagato raga questo bullone ci devastano ci devastano aspetta provo a mettere le bombette qua sperando che vada lì benissimo e raga ci fanno più del 55 di danno e raga abbiamo perso abbiamo sbagliato noi perché lì perché lì praticamente dovevamo ci siamo fatti fare ridico di mettere football che mi serve il gettone stella football no non so non so football in football vado a utilizzare o mortis rega mortis dai te penny secondo me non è stata una grande idea di leggere penny però anche se penny è forte un po' in tutto rega abbiamo una rosa noi non abbiamo frank loro si rega no ho sbagliato ho sbagliato non avevo visto la ultima sua ultima scappa via scappa via no lei non dovevi tirare perché tanto c'erano i muri ora vado a pushare il frank tiro la palla lui perché mi sa che questo è l'1-0 e infatti vabbè abbiamo perso questa partita quasi sicuramente perché veramente hanno una squadra molto forte io potrei anche aver sbagliato a mettere cosa mortis se rosa me la passasse magari oh c'è la ulti frank passa l'ha usata buono passa per perché non me la passa rosa morto e però ragazzi se me la avesse beh ma godo è il casa passa non non è raga ho sbagliato un gol che Ale ha fatto gol bravo Ale 1-1 partita in equilibrio no la ulti di frank scappa allora prendo la palla la tengo un attimo qua dietro Ale prova a scappare via sono morto forse dovevo passare la ad Ale e però sia Ale che va in porta la palla ammazzo il frank si siamo 3 contro 2 vado a pushare lasciami la palla ok raga supplementari me ne vado me ne vado con la palla non è vero perché c'è il frank che è rinato Ale prova ad ammazzare il barrel no sulla linea però cosa ha ammazzato allora calma parata su frank adesso io scappo via scappo via raga il tiro no non è vero raga è difficilissimo però mi sa che loro fanno gol adesso la pago di nuovo scappo dai cosa dai cosa no raga o fanno con loro o finisce in pareggio via 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 rosa pareggio raga lo so che potevamo vincere ma potevamo anche perderla questa potevamo vincerla potevamo anche perderla però comunque è una bella partita io io vorrei prendere il gettone stella loro hanno un dynamite che è un squadra un pochino strana vabbè tara si ci sta perché tara in football tara no raga loro fanno molto danno da lontano noi invece non facciamo tutto sto danno da lontano io se Ale dovrebbe giocarsela bene perché no ho sbagliato oh la vado a pushare no raga mi sta laggando Ale via da lì bravo Ale ti ho usato la ulti che non è servita niente bene scappo era provo a scappare no l'ha presa l'ha mandata via non è vero raga non ci credo raga 1 a 0 bene 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 1 a 0 scappo via da qui perché hanno usato doppia ulti e raga dai si bibi si bibi più 800 un'estella poi la mega cassa avrà la cassa in oro e poi direi che ci possiamo salutare e pure la cassa piccola buono buono niente bene 10 punti di taglia ci stanno e detto questo ragazzi ci vediamo in un prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi e attivate la campanilla detto questo ci vediamo in un prossimo video ciao ciao